salve a tutti e benvenuti sul mio canale oggi vi porto alla recensione dello smartphone da gaming black shark 4 prima di andare avanti invito come sempre ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video saluto come sempre la community facebook di digitabili.blog e il gruppo telegram mannati di smartphone e mannati di smartwatch trovate qui sotto tutti i link in descrizione siamo arrivati alla quarta generazione dello smartphone da gaming per eccellenza nella confezione di questo black shark 4 troviamo lo smartphone poi troviamo i classici libretti di istruzioni con degli adesivi veramente simpatici poi troviamo una cover rigida che protegge davvero poco lo smartphone poi troviamo un cavo di ricarica usb usb tipo c e un caricabatterie da 67 watt meno aggressivo delle precedenti generazioni questo black shark 4 mantiene il suo look tamarro con una back cover lucida che lascia trasparire una trama che crea dei giochi di luce senza distogliere troppo lo sguardo dal logo dell'azienda che è posizionato al centro della scocca posteriore che è realizzata in plastica con effetto curvo sui lati black shark 4 non è uno smartphone che bada molto alle sottigliezze lo dimostra lo spessore che raggiunge i 9,9 mm ma che ha permesso di inserire nel frame laterale due pulsanti a lievitazione magnetica i cosiddetti master triggers questi master triggers che vengono sbloccati meccanicamente permettono all'utente di sfuggire di un'esperienza gaming degna del nome del brand in aggiunta a questi master triggers poi troviamo il tasto di accensione che integra il sensore per il conoscimento delle impronte digitali ben posizionato è molto ma molto veloce è sempre preciso invece dall'altra parte del frame troviamo il carellino delle due sim il bilanciere del volume affiancato da un microfono per la riduzione dei rumori ambientali sulla scocca superiore e inferiore invece troviamo i due speaker stereo l'entrata usb è una praticamente tipo c poi abbiamo il jack audio da 3,5 mm oltre ad un microfono per la riduzione dei rumori ambientali e il microfono principale le dimensioni sono di 163,8 x 76,4 x 9,9 mm di spessore per un peso di 210 grammi il display è il punto forte di questo black shark 4 stiamo parlando infatti di un display dedicato ai gamers incalliti è un display super amoled hdr 10 plus da 6,67 pollici che affiancato ad una gpu adreno 650 ed un soc snapdragon 870 da 7 nanometri permette di giocare a un refresh rate fino a 144 hertz alla prossima black shark ha pensato bene di arricchire il suo parco giochi con degli accessori dedicati al gaming stiamo parlando del caricabatterie da 120 watt che ricarica lo smartphone in soli 17 minuti ed è il dissipatore rgb fan cooler 2 pro che permette di raffreddare il black shark 4 durante le lunghe sessioni di gioco io l'ho provato e sinceramente non solo lo raffredda ma lo congela è veramente veramente molto bello e funziona bene e comunque è adatto anche a tanti smartphone quindi potete utilizzarlo su altri smartphone fino a 7 pollici di grandezza non è solamente adatto al black shark quindi se vi piace giocare anche con altri smartphone io ve lo consiglio ho effettuato una sessione di gioco di circa mezza giornata giocando a call of duty e devo dire che black a 4 affiancato al fun cooler 2 pro non ha mai sofferto di su riscaldamento ma una critica a black shark è doverosa perché questo dissipatore in questione non è dotato di una batteria e necessita di essere alimentato con una power bank esterna quindi è davvero scomoda da portare dietro però credetemi di veramente vi congela lo smartphone poi molto ben fatto costruito bene si può adattare a qualsiasi smartphone fino alla dimensione di 7 pollici e poi ha un bellissimo display come vedete che segna i gradi attuali che segnala questo fun cooler 2 pro in questo momento che segna 11 gradi credetemi ho le dita sopra e mi si stanno congelando le dita si stanno raffreddando e ho visto scendere la temperatura anche fino a un grado veramente ben fatto e complimenti a per questo fun cooler 2 pro a completare il reparto hardware troviamo una batteria da 4500 miliampere a doppia cella ovvero una doppia batteria da 2250 miliampere che come detto permette di abbattere drasticamente i tempi di ricarica se non volete acquistare comunque il caricabatterie quello da 120 watt sappiate che il modello da 67 watt della confezione garantisce tempi di ricarica di 40 minuti quindi davvero eccellente parlando invece di fotocamera questo black shark 4 si caratterizza da tre fotocamere posteriori abbiamo una camera principale da 48 megapixel f 1.8 una camera grande angolare da 8 megapixel f 2.2 e una lente macro da 5 megapixel f 2.4 dato serve invece abbiamo una fotocamera anteriore da 20 megapixel il comparto fotografico si è migliorato rispetto al black shark 3 ma senza grossi stravolgimenti in condizioni di luce scarsa gli scatti risultano impastati e poco definiti invece sono ottimi gli scatti di giorno questo black shark 4 comunque permette registrazioni video in risoluzione 4k fino a 60 fps ma dal meglio di sé a 1080p in quanto una messa a fuoco reagisce con maggiore reattività a questa risoluzione ottima la fluidità di registrazione che nonostante l'assenza di una stabilizzazione ottica risulta davvero piacevole grazie a tutti 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 Chi acquista Black Shark è sicuramente consapevole di trovarsi di fronte ad un mostro di potenza per poter giocare, ma allo stesso tempo è ben conscio di non avere tra le mani un top di gamma per altri aspetti. Ottimo invece è il comparto audio multimediale, arricchito da due speaker stereo posizionati sulla scocca superiore e inferiore. Abbiamo a bordo Android 11 con le patch sicurezza aggiornate a marzo 2021, mentre come software di gestione abbiamo la Joai 12.5 che è praticamente una MIUI 12 rivisitata. A livello complessivo questo Black Shark 4 mi ha affascinato, ma allo stesso tempo mi ha lasciato alcune perplessità, come l'assenza di un'espansione di memoria interna e come l'assenza delle sensore NFC che diventa quasi un obbligo al giorno d'oggi, vista l'esposizione che c'è stata nei pagamenti contactless. Potete trovare questo Black Shark 4 su Amazon con un prezzo che si aggira intorno a 499€ e la ventola Fan Cooler 2 Pro che vi consiglio costa intorno i 35€. Vi lascio qui sotto tutti i link in descrizione. Per oggi è tutto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e lasciare un bel like per supportarlo. Per qualsiasi info scrivete pure nei commenti. Ciao e alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!